Una maggioranza allo sbando, come avviene anche a livello nazionale, oggi cade il numero legale per ben 5 assenze. Soltanto alcune giustificate, evidentemente ci sono forti litigi rispetto al disegno di legge omnibus che ancora una volta viene portato avanti, che oltre a degli stanziamenti definisce delle vere e proprie norme che prorogano per esempio le nomine che hanno fatto già in questi anni all'Ater e soprattutto eliminano, cancellano i 5 milioni di euro per quanto riguarda le famiglie e le imprese per il caro Bolletta e il caro Energia. Noi torneremo il 2, il 2 di maggio a dare battaglia ma oggi non possiamo che rilevare che non solo governano e male prorogano le loro nomine, cancellano le risorse per le famiglie ma addirittura viene meno il numero legale con ben 5 assenti.